In questo video vedremo come collegare il video intercom con l'iPhone grazie alla applicazione Home Plus di sicurezza. L'applicazione Home Plus di sicurezza. Se già hai un'account, log in o creare un nuovo. Qui scelgo BT-Cino e classe 100X16E. Qui l'applicazione racconta come collegare l'iPhone con il video intercom. Usando il joystick di sede, devi entrare il menu di settimana per attivare il wifi temporale. Dopo alcuni momenti, un codice cura apparirà sul monitor per essere scannato. Questo è usato per certificare l'app video intercom connessione. Ora scelgo il wifi dove vuoi il video intercom connesso e, se necessario, entrare il password. Qui c'è un passo cruciale. Per completare l'procedura della commissione e certificare la connessione, l'iPhone deve connessione temporale al wifi creato dal video intercom. Aspetta un momento e vedrai che il video intercom, prima, prende un'addressa di ip-addressa dal vostro wifi wifi. e, finalmente, la procedura di commissione finisce da chiedere un nome per la nuova casa. possibile presented via Google, slash�도te wifi 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 animatività